Ciao amici, benvenuti nella mia summer body routine. In questo canale, come vi ho sempre detto, si proclama il self love e quale miglior modo se non prenderci cura anche di noi stessi e del nostro corpo. In queste riprese, appena tornata dalla palestra, ero stanchissima e ho iniziato mettendo un bel po' di musica rilassante. E poi ho applicato una maschera sui capelli, anzi se volete vedere la mia hair care routine lasciatemi un commento qui sotto. Dopodiché passo allo scrub, specialmente d'estate se volete mantenere più a lungo l'abbronzatura, quello che dobbiamo fare è andare ad esfoliare la nostra pelle. Questo è uno scrub molto delicato, ha dei grani molto sottili e ha un effetto idratante, perché contiene degli oli all'interno che mantengono la pelle idratata e hanno un effetto super liscio. Dopodiché, step fondamentale in questo video, vedremo poi successivamente, vado ad applicare una crema da doccia, qua come vedete fa una leggera sfiuma, e la utilizzo prima di andare ad effettuare la rasatura per andare appunto ad ammorbidire la pelle. Dopodiché, ci armiamo di rasoio e procedo con la rasatura. Dopo aver sciacquato le gambe, vado a detergere il corpo e ultimamente sto amando i saponi solidi, perché lasciano la pelle bella morbida, detersa, ancora di più post-workout, una sensazione di freschezza senza andare a seccarlo, oltretutto anche un grosso aiuto per l'ambiente. Terminata la doccia, si va in camera, come avevo terminato la hair care routine, avevo i capelli morbidissimi, e passiamo al dispositivo per la luce pulsata. Infatti, questo video è in collaborazione con Luxemate, che è un'azienda produttrice di dispositivi per la cura del corpo, e io ho avuto la possibilità di provare questo dispositivo per la luce pulsata. Questa è la box che vi arriva a casa, all'interno ci sono le istruzioni, la garanzia, l'alimentazione, e all'interno di quel sacchetto troviamo il nostro dispositivo. Come sapete, già vi ho raccontato diverse volte, è una pelle davvero molto sensibile e reattiva, e il metodo di eliminazione dei peli che va a creare meno problematiche è appunto la luce pulsata, perché va ad eliminare il pelo definitivamente. È un dispositivo davvero molto semplice da utilizzare, ora ovviamente vi mostro come fare. Come prima cosa andiamo a collegare l'alimentazione al dispositivo, inserendo in questo foro, e poi andiamo a mettere la presa di corrente. Cosa molto importante, se avete dei nei dovete andare a proteggerli con una matita da trucco contenente ossido di zinco che sia bianca, in modo tale che loro rimangano protetti. E poi ci mettiamo belli comodi per iniziare la nostra seduta di luce pulsata. Come vedete lampeggia questa luce verde e andandola a premere andiamo ad accendere il dispositivo, che ci mostrerà la luce blu, che sta ad indicare l'intensità utilizzata. Io in questo caso ho utilizzato il livello 1 di intensità, ma ci sono fino a 5 livelli. Poi allungo le gambe, mi metto bella comoda e poggiando il dispositivo sulla pelle inizio la mia seduta. E' molto importante far aderire per bene il flash alla pelle, così che si possa fare la lettura corretta del pelo e della pelle, e poi premete il tasto che c'è sul davanti e come vedete va a sprigionare questo flash, che è esattamente lui che andrà ad eliminare definitivamente i nostri peli. Procedo step by step, spostandomi piano piano su tutta la gamba, ma come vedete è molto veloce la procedura e soprattutto, cosa che mi piace tantissimo, è totalmente indolore. Sentirete solo un leggero calore sulla vostra pelle, che ovviamente potrete gestire in base all'intensità che andrete a scegliere. L'azienda consiglia di effettuare per il primo ciclo un trattamento alla settimana per 6-10 settimane. Al termine del primo ciclo effettuare un trattamento di mantenimento ogni 1-3 mezzi, a seconda di risultati ottenuti. E' molto importante per le 72 ore successive, oltretutto non esporsi al sole e utilizzare sempre una protezione solare molto alta. E' terminato il mio trattamento a luce pulsata, vado ad applicare una buona crema idratante per andare a lenire la pelle, lasciarla bella idratata per tutto il giorno, e abbina un'acqua profumata della stessa fragranza, che non avendo alcol è veramente super delicata. Bene amici, per il video di oggi è tutto, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra summer body routine, se avete mai provato la luce pulsata. Sotto nell'info box vi lascerò tutti i riferimenti dall'azienda Luxemate, così potete andare a dare uno sguardo al dispositivo. Per il video di oggi è tutto, se volete supportarmi potete lasciare un like, e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. Per il momento io vi saluto e vi mando un grosso grossissimo bacio. See you soon!